Io, Paolo e Valentino, ho preparato questo film, messo i soldi anche dei parenti, rovinandoli, eccetera, cose del genere, però niente, non si riusciva assolutamente. Dopo un anno di sforzi terribili, di debiti, col nostro veramente trattore si era fatto un tale debito che a punto ha detto entra nella produzione e quindi eravamo disperati. L'unica, l'ultima chance è proprio nell'ufficio di Sansone e Giuliani. Allora noi si va lì proprio dicendo è l'ultima, è l'ultima speranza. Eravamo veramente disperati perché pensavamo che se non riuscivamo a fare questo ultimo passo, dopo i mille fatti, veramente forse per noi andiamo a spararsi, perché noi ci eravamo detto io e Paolo venendo dalla Toscana a Roma per fare il cinema, se dopo dieci anni non facciamo un film, con gli ultimi soldi si prende una pistola e ci si ammazza. Eravamo convinti di questo. Ora magari chissà se l'avremmo fatto, ma noi eravamo... Allora, ultima speranza, siamo nell'anticamera dell'ufficio di Sansone, noi ci chiamavamo sbagliando la Moira Film, che dà un senso di destino, noi siamo lì che aspettiamo perché erano dentro, non entrate, c'erano dentro Alfonso e Giuliani e anche i Conoscischi forse. A un certo punto si sente dire, dopo un'ora e mezzo di attesa, la Moira avanzi. E allora Giuliani e Alfonso ci accorgono, Giuliani ben genovesi, di quelli proprio genovesi, fino al midollo, e Alfonso invece, questo gran signore siciliano, eccetera, ci dicono va bene, questo film ci interessa. Giuliani naturalmente dice subito, quello che avete speso fino a ora, perché non si è speso molto, è chiaro che non esiste alzerato. Genovese puro.